E dopo settimane in cui abbiamo visto la curva sud vuota con un unico strescione a campeggiare, ieri sera comunicato ufficiale con cui si chiarisce ed informa quanto segue. Cari tifosi accesi, adesso serve ritrovare compattezza e forza di intenti per cercare in tutti i modi di salvare faccia e categoria. La contestazione dura e sofferta ha avuto i suoi frutti, ovvero una scossa forte per tutto l'ambiente del gruppo di calciatori, con le dimissioni del direttore generale Mario Marino. In fondo, come si dice da queste parti, la cera si scioglie per noi e quindi si è deciso di ricompattarci e provare in tutti i modi a salvare una stagione ma soprattutto il futuro. Torneremo a sostenere la squadra dalla prossima partita interna contro l'Icate e prenderemo posto nel settore distinti lato spogliatoi, per essere più vicini al terreno di gioco, per coinvolgere maggiormente gli altri tifosi, per cercare in tutti i modi di creare un caldo fattore campo, visto che il nostro stadio è un impianto strutturalmente concepito in modo freddo, distaccato e lontano dal terreno di gioco, ma soprattutto perché è pressoché una prigione dove è vietata quasi la qualsiasi, a differenza di altri impianti, dove all'interno del recinto di gioco stazionano personaggi più o meno autorizzati dalle forze dell'ordine, che fanno di tutto per intimidire gli avversari con minacce e aggressioni verbali, che sfiorano quelle fisiche. Queste prassi in tutti i campi del nostro campionato, ma aspetto che da Cireale è impensabile, condizioni in che spesso determinano l'atteggiamento degli arbitri e di conseguenza quello delle gare. Ultimo esempio, la partita di Marsala, ragion per cui, almeno fino alla fine di questo campionato, prenderemo posto nel settore distinti per i motivi sopradescritti. L'invito che vogliamo rivolgere a tutta la tifoseria è quello di dimenticare le polemiche, le delusioni, le critiche, tutte giuste e sacrosante, ma che a questo punto della stagione non portano da nessuna parte. Compattiamoci, difendiamo questa categoria ed il nostro futuro con tutti i mezzi. Con il coltello tra i denti dobbiamo salvarci noi con le nostre forze a tutti i costi. I margini per farlo ci sono, in termini di punti e di matematica. Proviamoci, lottiamo insieme. Carica a Cireale, firmato Curva Sud. Grazie a tutti.